E poi lei parte, guarda, pronto? Dimmi quello sì, pronto? Bene, siamo Monica Remata e siamo qui per presentarvi questo percorso, Completa Me. Completa Me è un percorso sul femminile, sul femminile divino. Il femminile divino in quanto integra in sé quattro archetipi molto importanti. L'idea di comprendere a fondo queste quattro diverse energie che ci compongono e che si alternano non solo in ogni ciclo mestruale, ma direi giornalmente e comunque che caratterizzano il nostro essere mutevoli, che fanno sì che una volta dica non te li conosco o che appunto formi dentro di noi degli stati di incomprensione, di conflitto. E quindi l'idea di entrare in comunicazione con questi quattro aspetti ci rende capace di poterli poi utilizzare, quindi di essere potenti in questo, di essere un giorno maga, un giorno adolescente selvaggia, un giorno madre. E quindi entrare consapevolmente in queste quattro energie e poterle utilizzare. Sì, è proprio arrivare alla maestria e fare in modo che tutta questa mutevolezza sia uno strumento e non un ostacolo dato dal conflitto interno del non riconoscersi perché bisogna essere per forza in un certo modo. Invece si può essere in tanti modi, ognuno di questi modi può essere uno strumento veramente evolutivo per se stessi e anche per l'intorno, portare dei grandi messaggi anche all'esterno oltre che all'interno. Quindi lo stare insieme, il potersi sostenere, il farsi da specchio, il capire che non si è sole, sperimentare ancora più intensamente che in un cerchio di donne quello che è il cerchio di donne. Quindi, bellissime donne, se qualsiasi cosa abbiate sentito in questa presentazione vi incuriosisce, siamo pronte ad accogliervi in questo spazio meraviglioso, pieno di elementi e di stimoli, portandoci alla riscoperta, alla scoperta e alla riscoperta di noi stessi. Grazie a tutti.